Una vera e propria catena di contagio, così il sindaco dispone alla chiusura di un'altra scuola nell'Aretino. Questa volta è successo nella comune di Capolona dove è stato colpito l'asilo CP. Qui in totale sono stati rilevati 17 casi positivi al Covid. I contagiati sono infatti 13 piccoli alunni e 4 insegnanti, tutti asintomatici. L'ASLA sta approfondendo attualmente la situazione per cercare di capire se possa trattarsi di casi di variante. Ha insospettito il grosso numero, tutto insieme, di positività dei bambini. Questo praticamente è stato il motivo che ci ha portato, pur non essendo noi molto propensi alla chiusura delle scuole, perché riteniamo che le scuole siano, come ho detto qualche altra volta, più sicure sicuramente delle strade, nel senso del giardino, piuttosto che della vita privata. Quindi a scuola sicuramente sono molto più protetti, però un numero così importante di contagi tutti insieme, di positivi tutti insieme, ci ha portato a prendere questa sofferta decisione della chiusura della nostra scuola materna. L'asilo resterà fermo sino al prossimo 5 maggio, quindi per 10 giorni. L'appelo del primo cittadino è sempre e comunque quello di mantenere alta la guardia. L'attenzione non è mai troppa, assolutamente. Dobbiamo sempre continuare a usare gli strumenti di protezione, dobbiamo evitare i forti assembramenti di persone, perché capite che il nemico è assolutamente sempre in agguato.